E' appena terminata la prima partita in programma per questa settima giornata, All Blef battono il panorama bis per 5 a 4, qua commento Giorandazzo e commentare questa bella vittoria per voi, una vittoria importante sicuramente perché vi rilanci in classifica. Certamente, la vittoria è stata di fondamentale importanza, i tre punti andavano ricercati e al primo tempo è stato tendenzialmente agevole portare il vantaggio dalla nostra parte, però al secondo tempo anche per ragioni di stanchezza fisica probabilmente o di particolare voglia di riscatto dell'altra squadra rispetto al primo tempo, non siamo riusciti a tenere bene il vantaggio. Siamo rimasti comunque sopra, ma è stata dura alla fine spuntarla, perché al secondo tempo i nostri avversari ci hanno dato filo da torcere, però alla fine è importante portare la vittoria a casa. Certo, sicuramente la vostra non è una squadra dove spiccono le individualità, ma a maggior ragione si viene tornato il gruppo, il gioco di gruppo. Sì, la coralità è la nostra vetra preferita, insomma il nostro punto preferito, perché dal punto di vista delle individualità non brilliamo, ma questo non significa che non possiamo essere una grande squadra, la cosa che abbiamo dimostrato di essere al primo tempo e secondo me abbiamo meritato la vittoria. Sicuramente, grazie ad Antonio Randazzo, più tardi con l'intervista al panorama. Siamo con Federico Maestosi, probabilmente il più in forma dei suoi, però oggi una sconfitta, forse troppi cambi oggi in squadra, mancava il portiere, questo poi infatti l'ha penalizzato troppo. L'assenza principale è stata senza altro il portiere, che è stata costretta a cambiare molto costantemente, quindi siamo riusciti a trovarci in partita, giusto verso la fine, verso l'ultimo partitore del secondo tempo. Abbiamo fatto meglio, ma... Forse si poteva fare qualcosa in più in primo tempo... Forse si poteva fare qualcosa in più, ma il problema è stato che non ci trovavamo proprio... Sennò si è tutto il gollo da squadra sisa, perché? La prima volta che ci trovavamo, insomma, venivano a giocare insieme a noi, perché erano delle riserve, quindi siamo stati questi... Va bene, ringraziamo anche Federico Maestosi, complimenti comunque al panorama di Capitan Morelli e ci vediamo più tardi con l'altra partita.